Ciao e benvenuto nella rubrica PDA, le pillole di Amazon. Oggi parliamo del team di Account Health, che è un nuovo reparto di Amazon che mette in comunicazione gli Amazon Seller e Performance. Quindi è un reparto che può essere contattato sette giorni su sette, dalle 9 alle 17, ma non tramite la procedura che tu già conosci per interfacciarti con l'assistenza. Può essere contattato telefonicamente, ma solo tramite un link. Quindi inserirai il tuo numero di telefono e verrai subito richiamato. Ma a cosa serve questo team? In particolare fa riferimento alle informazioni necessarie per poter riattivare il tuo account. Quindi da questo reparto traiamo informazioni importanti come lo stato della pratica. Quando unvii un piano d'azione e non ricevi risposta, tramite questo reparto puoi sapere se la pratica in revisione è stata rifiutata purtroppo senza che ti è stato comunicato. Inoltre se ci sono note interne del team di Performance. Questo significa che il team di Performance ti rifiuta il piano e lascia delle note interne. Queste note interne possono essere conosciute comunicando con questo reparto. E la terza sono delle opinioni sul tuo piano d'azione. Ovviamente si parla di opinioni, quindi opinioni di operatori Amazon che nulla hanno a che vedere con Performance. Sono due reparti diversi. Quindi come tali, essendo opinioni, vanno prese. Quindi si può trarre qualcosa di utile ma anche escluderle nel caso in cui ti accorgi che siano delle indicazioni sbagliate. Ecco, è sicuramente un reparto molto importante per gli Amazon seller che può essere sfruttato in relazione al ripristino dei tuoi privilegi di vendita. Ciao e alla prossima pillola! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!